Dalla Valle dei Tempi al Palazzo dell'Informazione, il maestro della videoart Fabrizio Plessi espone a Roma con la mostra Plessi per ADN Kronos, dedicata ai 50 anni di storia del gruppo ADN Kronos. L'esposizione, aperta da lunedì e fino al 20 dicembre, è stata inaugurata oggi dal Presidente del Senato Pietro Grasso, un artista Plessi che per la sua capacità di raccontare il segreto dell'acqua, elemento di unione tra passato e futuro, è stato definito il Talete dell'arte. Perciò lega oggi il suo percorso di ricerca all'agenzia di stampa ADN Kronos con un'idea di movimento, quella kinesis che incontra il pensiero e racconta di confini sempre da spostare. Ed è proprio il flusso, inteso come acqua che scorre e scluta passaggi di tempo, ma anche come notizie e informazioni dell'agenzia che raggiungono le persone nel villaggio della comunicazione globale, il filo rosso di questo itinerario di Plessi. Io sono un alchimista che lavora con dei materiali tipici del mondo dell'arte, come la pietra, il marmo, il ferro e invece li contamino con il cangiante elettronico. Questo è stato un lavoro di molti anni e ha fatto sì che io sia un navigatore solitario. Un navigatore che racconta il viaggio della ADN Kronos tra radici e futuro.